091 96 11 08 La scura della finanziaria si abbatte su tutti i settori previsti tagli per 200 milioni. Nessuna proroga ai 31 contrattisti del comune di Bagheria. Inaugurato oggi il Fab Lab scolastico all'Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews. Oggi è venerdì 27 marzo. Come avete sentito nei titoli, la scura della nuova finanziaria regionale si abbatte su tutti i settori previsti tagli per 200 milioni di euro, 2.000 indipendenti in pensione anticipata. La nuova finanziaria della regione siciliana continua a far discutere. Tra polemiche e bracci di ferro una cosa è certa. Continua a non essere firmata dall'assessore all'economia Alessandro Baccei. L'unico che sembra esserne pienamente soddisfatto è il presidente Crocetta, che comunque oggi ha annunciato che se non arriveranno da Roma i 3 miliardi che servono a chiudere i conti, è pronto anche un piano B, ovvero una finanziaria senza quei fondi. Intanto i sindacati sono di nuovo sul piede di guerra, così come i deputati dell'opposizione, che hanno chiesto al presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, di stralciare tutte le norme illegittime e improponibili, e le opposizioni del Movimento 5 Stelle, che si scagliano soprattutto contro la norma che definiscono Salva Monterosso, ovvero l'autorizzazione ai funzionari di usare la buonuscita per coprire i debiti da danno erariale con sentenze esecutive. Un'eventualità questa, dicono i deputati del Movimento 5 Stelle, cucita su misura per il segretario generale della Regione e altri super burocrati, che proprio in questi giorni potrebbero vedersi confermare le pesanti condanne della Corte dei Conti per la questione extra budget. In sostanza sono tutti scontenti di questo documento, che di fatto rappresenta una sostanziosa cura dimagrante di 200 milioni di euro, tra taglie agli organici e servizi, fuoriuscite e risparmi sui costi della politica, a cominciare dagli enti locali. Il primo capitolo è quello del personale, con l'addio di oltre 2.000 dipendenti, tra cui 850 dirigenti. Per la fuoriuscita degli ex-PIP della GESIP viene prevista invece una dote di lavoro di 10.000 euro, ma fino al 31 dicembre 2017, che andrà assottigliandosi col passare del tempo. Confermata anche la diminuzione dei forestali, operaiesa e consorsi di bonifica, tagli pure a consiglieri comunali e assessori. E di qualche giorno fa la notizia che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime le norme utilizzate dal governo Crocetta per annullare le procedure di affidamento in concessione dei servizi per il pubblico di musei e siti archeologici per le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina e Siracusa, giudicati nel 2012. L'obiettivo di collocarvi precari ed avventizi è fallito, ma ha nascato contenziosi e pesanti risarcimento. Ne hanno parlato oggi gli ex-assessori regionali e beni culturali, Sebastiano Missineo e Gaetano Armao. La rivoluzione ignorante, così come è stata definita, va avanti di Crocetta e del suo governo. Nel senso che due anni fa era pronta per la giudicazione legare per il coinvolgimento dei privati nella gestione dei beni culturali, erano già state individuate le migliori società italiane per rendere i nostri siti culturali analoghi a quelli degli Stati Uniti, della Francia o dell'Inghilterra, quindi renderli competitivi sul scenario internazionale. Crocetta, al grido via le imprese dai beni culturali, voglio sistemare i precari, ha annullato tutto, ha zerato tutto e ha lasciato i beni culturali nella situazione di disastro nella quale oggi si trovano. Questo anche con perdite economiche per la Sicilia? Abbiamo perso entrata, abbiamo perso valorizzazione dei beni culturali, abbiamo perso pubblico, i turisti vengono e trovano tutto chiuso. Bene, cos'è accaduto? Dopo due anni la giustizia costituzionale e poi quell'amministrativa hanno dichiarato illegittimo tutto questo, quindi non solo il danno, ma anche la beffa di vedere al grido della legalità e dell'antimafia di facciata, veder distruggere un lavoro che aveva messo la Sicilia all'avanguardia a livello nazionale. Il nostro obiettivo non è quello solo di criticare, evidentemente vanno stigmatizzate certe patologie, ma quello di rivolgere un appello all'assessore Purpura, che è persona seria e competente, affinché immediatamente, chiusa questa parentesi triste dovuta a Crocetta, possa varare un servizio di qualità nei nostri siti culturali per l'utenza e per i visitatori. Partirà lunedì mattina alle 9.30 da Piazza Marina a Palermo con il corteo dei lavoratori della formazione professionale, che chiuderà con uno sciopero di sei ore il percorso di mobilitazione promosso da FLCCGL, CIS Scuole e Will Scuola per rilanciare la vertenza in Sicilia. Il corteo giungerà davanti la sede della Presidenza della Regione a Piazza Indipendenza. CGL e CIS Scuole insieme ai sindacati confederali denunciano la grave crisi, ormai diventata dramma sociale per migliaia di lavoratori. In Sicilia crisi e disoccupazione alle stelle a lanciare un nuovo allarme è la CISL Palermo-Trapani. Il tasso di disoccupazione a Palermo nel 2014 è stato del 23,2%, 25,2% per le donne e 21,8% per gli uomini. Preoccupante è anche la disoccupazione giovanile, quasi il 60%, cresciuta di ben 5 punti percentuali rispetto al 2013. A lanciare un nuovo allarme è la CISL Palermo-Trapani. La situazione appare sconfortante, spiega il segretario Daniela De Luca, durante i lavori del Consiglio Generale che si sono svolti nel Salone della Chiesa San Paolo a Borgo Nuovo. Crescono i giovani sfiduciati e senza lavoro. È ciò che non è più possibile tollerare la mancanza di una strategia complessa da parte della politica e delle istituzioni. Sul fronte delle imprese a Trapani le attive sono oltre 39.000, ma quest'anno accessere ogni attività sono state 3.324, soprattutto nel settore dell'agricoltura e del commercio, secondo i dati della Camera di Commercio. A Palermo, invece, soffrono di più le imprese artigiane, ben 1.554, secondo l'associazione di categoria, quelle che hanno chiuso i battenti lo scorso anno, ma la crisi ha fortemente colpito anche il settore del commercio e le industrie. La CISL sollecita dunque un vero e proprio piano industriale per Palermo e per Trapani, che ponga anche al centro delle azioni il rafforzamento delle politiche sociali a favore dei più poveri. Non solo, il sindacato rafforza la sua missione a fianco dei lavoratori e dei cittadini, promuovendo più proposte, idee e decentramenti e una maggiore presenza nelle periferie, nei comuni e nei territori più difficili. A seguito dell'arresto per tangenti di Roberto Elg, il Consiglio di Amministrazione della GESAP, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo, ha deliberata all'unanimità la cessazione del rapporto di lavoro con il direttore generale Carmelo Scelta. Per il momento le sue funzioni verranno svolte dall'amministratore delegato Dario Colombo. In un secondo momento verrà emanato un bando ad hoc, Scelta era alla guida della società da oltre dieci anni. Nessuna proroga ai 31 contrattisti del comune di Bagheria. Il non arriva da Rome sarebbe legato a ritardi nei pagamenti. Brutte notizie per i 31 contrattisti del comune di Bagheria. Da Rome è arrivato un no secco alla proroga dei loro contratti. A esprimere parere negativo è stata la commissione della direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali del Dipartimento degli Affari Interni del Ministero dell'Interno. Pare che il motivo del diniego sia legato ai tempi di pagamento dei fornitori che negli ultimi due anni non sarebbero stati rispettati secondo i termini previsti dalle normative. C'è però anche uno spiraio positivo e riguarda l'approvazione della rideterminazione della pianta organica che riguarda i posti che fino al 31 dicembre erano occupati dai contrattisti. Duro il commento dell'assessore al bilancio del comune di Bagheria, Maria Laura Maggiore. È un momento triste per la storia della nostra città. Il costo della crisi e del dissesto finanziario è ricaduto anche su questo ente con la mancata proroga. Se il problema sono i tempi non rispettati, aggiunge, dovrebbe essere superato visto che aspettiamo circa 8 milioni di euro per far fronte ai pagamenti arretrati. Certamente faremo di tutto per non perdere questi lavoratori. Già dei prossimi giorni è probabile che i 31 contrattisti che hanno ricoperto ruoli di primo piano nel comune lanciano forme di protesta plateali nella speranza di non perdere del tutto il loro posto di lavoro. Inizia a Villabate il confronto politico in vista delle prossime elezioni per la scelta del nuovo sindaco. Ascoltiamo la candidata Giuseppa Di Gaetano. Diciamo che è un momento importante, è il momento in cui stiamo per partire. Diciamo che siamo già partiti mentalmente già da tempo, ma da oggi è ufficiale il fatto che stiamo partendo per questa nuova impresa. Un'impresa che sembra difficile come tutte le cose, però che cercheremo in tutte le maniere di farla diventare un cammino facile. La mia squadra è fatta di amici, ma non di amici che si incontrano un giorno, di amici che sono fatti da vent'anni, quindi è basata tutta sull'amicizia. Per questo è una squadra che non può perdere, almeno non può perdere non le elezioni, ma non può perdere il nostro pensiero. E se dovessi diventare sindaco questo posto rimarrà aperto come lo sportello del cittadino, in cui tutti i cittadini potranno entrare e uscire come se sono a casa loro, dove potranno venirsi a lamentare, sia dei miei errori come potranno venirmi a elogiare di quello che potrò fare e soprattutto mi devono venire a consigliare, perché sono chi vive in una strada che sa i problemi di quella strada. Io posso sapere il generale, però loro sanno il particolare e a me interessa il particolare, non il generale. C'è un'amicizia fraterna che mi lega alla dottoressa Di Gaetano, alla quale devo molto anche sotto il profilo professionale per la mia salute, ma soprattutto perché spero che in lei si realizzi quel sogno che ho voluto di Villa Abate nuova, di Villa Abate diversa. Io ricordo quando nel 68 sono arrivato a Villa Abate, i villabatesi avevano di se medesimi un pessimo concetto e ho giurato a me stesso e davanti a Dio che avrei corretto le loro posizioni, le loro idee, la loro disistima e convertire questa disistima in autostima. Ci sono stati momenti belli, momenti meno belli nella storia di questi ultimi 40 anni di Villa Abate, però spero che cominci una nuova primavera e una nuova primavera questa volta per la prima volta nella storia ormai centenaria di Villa Abate a il volto di una donna. Speriamo che la primavera spunti veramente e seriamente a Villa Abate. Cronaca arrestata a Palermo un rapinatore che aveva messo a segno un colpo nella filiale del Monte dei Paschi di Siena in Viano Tarbartolo. È stato incastrato da un sistema innovativo per rilevare le impronte digitali. La polizia ha arrestato a Palermo Giuseppe Presti, 31 anni, con l'accusa di avere compiuto lo scorso 9 marzo una rapina nella filiale del Monte Paschi di Siena in Viano Tarbartolo. Il colpo fruttò 500 euro. Gli agenti hanno identificato il rapinatore grazie al sistema Biodigit, sofisticato meccanismo di rilevazione dell'impronta impressa da chi fa ingresso nell'istituto bancario. Presti, pregiudicato della Marinella di Palermo, era già noto alle forze dell'ordine per un precedente colpo al credito siciliano di Viale Campania del maggio dello scorso anno. Si è presentato con il volto parzialmente coperto da uno scaldacollo. Era entrato con fare deciso verso le casse e aveva allontanato violentamente l'impiegata impadronendosi dei cassetti. Trovando poco contante, però aveva ripiegato sui pacchi di monete ancora confezionati, riuscendo così a portare via ben 500 euro. Ma non aveva fatto i conti con il sistema Biodigit installato in banca e forse non sapeva di aver lasciato la propria impronta al momento dell'ingresso. Gli investigatori hanno impiegato poco tempo per riconoscerlo. Nell'ambito della manifestazione Panormus, la scuola adotta alla città per la sezione Palermo Scientifica è stato inaugurato oggi il Fab Lab scolastico all'Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III. L'iniziativa Fab Lab at School Palermo mira a combattere la dispersione scolastica in delle scuole della città tramite la messa in rete di soggetti pubblici e privati con un bagaglio eterogene e multidisciplinare di competenze e le interviste. Questo è un paese che guarda ormai solo alle sue spalle, al passato. Un Fab Lab, peraltro condiviso da associazioni come Lega Ambiente, Palermo Scienza, CIS, è un progetto che invece guarda al futuro, che usa le nuove tecnologie per dare strumenti a questi ragazzi per cominciare a ragionare alla produzione di beni, partendo dai concetti della green economy, della new economy, non della old economy. Oggi abbiamo spiegato ai ragazzi che uno stesso oggetto in plastica si può realizzare utilizzando plastica riciclata, risparmiando molta energia, oppure si può fare utilizzando più risorse, utilizzando il petrolio e consumando molta energia. Nel primo caso c'è spazio sul mercato oggi per quegli oggetti, nel secondo caso di spazio ce n'è sempre meno. Allora dobbiamo aiutare i ragazzi non solo avvicinandoli già nel momento in cui sono ancora a scuola al mondo della produzione, ma li dobbiamo avvicinare al mondo della produzione del futuro e non del passato. La novità è questo, che noi abbiamo sfasciato un laboratorio vecchio che avevamo, che non funzionava più, perché l'idea stessa di laboratorio precedente che avevamo nei vecchi industriali viene capovolto dal laboratorio del fare della nuova tecnologia, che modifica la maniera con cui si fanno le cose e la maniera con cui si utilizzano i materiali con cui vengono fatte le cose. Quindi è fatto piacere anche a noi, perché ci siamo ributtati in un'innovazione della maniera con cui gestivamo i nostri laboratori e la nostra maniera di fare tecnologia. E questo è importantissimo. Aperto all'esterno. Aperto all'esterno è fondamentale. Pensate che quanta gente abbiamo messo dentro tra l'università, palermoscienze, scienziati, design, architettura, eccetera, che collaborano assieme. Ma questa è l'immagine di quello che può essere la città, di quanto la collaborazione tra diverse persone può creare innovazione. Questo per Palermo è una scommessa. Al via oggi all'Orto Botanico di Palermo la manifestazione La Zagara, dedicata alle piante rare ed inusuali. Tante le novità della decima edizione. Ascoltiamo Carmelo Sardegna del comitato organizzatore. La Zagara alla decima edizione raddoppia. Abbiamo dei grandi vivaisti, abbiamo delle grandi collezioni di rose antiche, abbiamo le collezioni di orchidee, ma anche le clematis, ma abbiamo anche le plumerie. Abbiamo una collezione immensa di plumerie. Abbiamo un giovane che da partenico porta l'odenum lobesum el arabicum, che fa dei fiorellini che sembrano delle piccole plumerie, delle fiori di pomelio plumerie. Ed è incredibile perché avremo anche la grande collezione di piante acquatiche. Sono un po' stanco perché capite bene cosa significhi. E poi abbiamo la parte culturale. Il grande ceramista, maestro di Monreale, Nicolò Giuliano, farà una personale di volti di regine in ceramica e poi ci sarà un grande, grande, importantissimo oggetto dal peso di circa 700 chili, che è un grande vaso che è stato commissionato al maestro Giuliano dall'arma dei carabinieri e sarà messo con una cerimonia stupenda, con un bellissimo olivo emblematico, all'interno della caserma Carini. Quindi ci sono dei vivaisti, diciamo questi vivaisti del confcommercio, che hanno donato una bellissima installazione di verde, bianco, rosso in onore della bandiera e in onore delle... Poi avremo la cultura. Basile presenterà il suo libro, edito da Calos. Poi Marilu Monte presenterà il suo libro attraverso l'intervento di Tiziana Martorana e quindi sarà un momento grande, eclatante, importante dal punto di vista culturale, ma ancora più grande è l'interesse che si avrà per la musica. La musica si fa, diciamo, diventa solidale, nel senso che c'è un giovane importante pianista che inizierà una tournée internazionale, un giovanissimo, e gli ho chiesto se poteva venire a suonare per allietarci, ma anche per raccogliere un po' di fondi per la comunità di Sant'Egidio. Al teatro Finochiaro di Palermo ritorna il burlesque con il nuovo spettacolo New York. New York, che domani e domenica sarà in scena alle 21. Subretta, attori, cantanti e l'orchestra e i bohemians percorreranno un travolgente repertorio di successi internazionali, fa coreografie mozzafiate e seducenti quadri per arrivare all'intramontabile Cancana. Dopo il boom dello scorso fine settimana, l'Assemblea regionale siciliana e la Fondazione Federico II hanno deciso di prolungare l'apertura della mostra di Fernando Botero via Crucis, la Passione del Cristo, fino alle ore 21. Sarà possibile visitare inoltre l'esposizione anche nei giorni festivi, compreso Pasqua e Pasquetta, 25 aprile e primo maggio. Il sindaco di Santa Flavia, Salvatore Sanfilippo, ha dato incarico di direttore artistico e consulente al turismo e spettacolo in vista della manifestazione estate flamese 2015 a Giuseppe Di Franco, già direttore artistico negli anni precedenti e persona competente in materia di turismo, sport e spettacolo. Sarà lui dunque a curare l'evento che accompagnerà per tutta l'estate il comune di Santa Flavia con un ricco cartello di iniziative. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.